E mentre tanti comuni del Salento chiedono la DAD, c'è una voce controcorrente che invece chiede la scuola in presenza ed è la voce che rappresenta Forza Italia. Consigliere De Giorgi, voi chiedete il ritorno a scuola a copertino? Noi crediamo che la scuola sia il luogo più sicuro. Ho apprezzato tantissimo anche l'iniziativa. Il sindaco di Maruggio ha comprato spese dal comune dei purificatori d'aria per cercare di mantenere le finestre chiuse in modo che i ragazzi non si raffreddassero e comunque avere un riciclo d'aria. Non è una soluzione che può risolvere completamente il problema ma comunque può aiutare. Anche perché poi non mandare i ragazzi a scuola e poi nel pomeriggio vederli scorazzare o di feste di compleanno perché ci sono state delle feste di compleanno dove sono andati o comunque in giro per la città. Diciamo, lì sarebbero fuori controllo mentre invece a scuola sarebbero sotto controllo anche perché molti genitori credono che la scuola basti una settimana la chiusura o la dado di una settimana per risolvere il problema. Ma qui a copertino abbiamo 1170 contagiati, ma sono quelli ufficiali? Ma credo che i numeri veri non siano questi ma siano ben oltre i 2000. Quindi non sarà una settimana ma sarà almeno un mese per poter risolvere il problema. Lei crede che questa decisione da parte del primo cittadino sia stata un po' tardiva? Questo non è il momento delle polemiche perché dobbiamo stringerci tutti intorno, siamo in guerra e quindi dobbiamo combattere e remare tutti dalla stessa parte. Però effettivamente qualcuno dovrà fare qualche mea colpa perché fino al 23 dicembre nella nostra città sembrava una festa, sembrava ogni giorno eventi, c'erano eventi per i bambini. Quindi diciamo il Natale è stato molto sentito e ci sono stati tanti punti d'incontro. Quindi magari dovevamo precedentemente intervenire perché oggi sicuramente in una città di 25 mila abitanti quasi non avremmo 1200, ripeto, ufficiali ma molti di più contagiati positivi.